Ciao, allora video velocissimo, allora innanzitutto sugli smanti della pupa, che sono quelli che se mettevate i mi piace su facebook riuscivate ad andare a prendere Allora ho fatto uno swatch, magari c'è una luce veramente piettosa, sono le 5.40 di pomerizzo, ho tirato su le tende alla finestra Ecco, forse così rende, comunque è questo, che è il numero 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 508, tanto non vedete, qui c'è scritto da vietata alla vendita E poi dovevo prendere uno è anche mia sorella, però alla fine sono di colori veramente brutti, sono rimasti Allora mi sono preso un po' trasparente, che mi serviva, perché quelli che avevo erano secchi Allora ho messo un po' trasparente come base per gli smalti, ci sono assi macchino di unghie, ho preso un po' trasparente, che è un numero 100 E lei ha rinunciato, e io me li sono presi con gran felicità Poi ho preso un po' trasparente da stradi Barius E ho preso questa maglietta, questo qua non arrivo, è un panna È un panna È un manichina corta E l'ho pagata 7,95 Beh tanto non vedete, comunque ho speso 17,94 di tutte le due Quindi, come vedete io non spendo mai milioni di euro per gli vestiti È carino, scusate, è molto carino Beh, logicamente, se no me la prendevo E poi l'ultima cosa in saldo, che sono questi pantaloncini che li metto qua, che sono un po' più vicino alla finestra, magari vedete qualcosa Sono un po' rovinati Però sono carini Cioè il genere è un po' strappatino Quanto è tutto costavano 29,95 e li ho pagati 10 euro 9,99 Sì, 9,99 Quanto è tutto calzano pochissimo Perfò ho preso una 40 Di solito ho preso una 38 Vabbè, chi se ne frega E qua c'hanno tipo un inserto in pelle marrone Che non vedete mai Ma sì, si vede, dai Più o meno E anche dietro sono un po' strappatini nelle tasche Leggermente scoloriti Ma non sono allucinanti E mi piace perché sono un po' lunghini Non sono proprio corti corti E mi sono piaciuti Sono monotematica, lo so Sempre i soliti negozi Cioè vado a Fidenza, vado ai petali a Reggio Sono monotematica Niente, se riuscite fino al 28 mi sape agli smaltini della pupa Fatevi prestare il Facebook anche dal fidanzato Magari se l'avete Se io mi annuncio là Vabbè, l'ho rubato mia sorella E niente Vi mando un bacione grande Al prossimo video Ciao ciao